Lascio l'assessorato non ovviamente in contrapposizione o in polemica con le forze politiche nelle quali mi riconosco come forza di governo e come appartenenza alla maggioranza ma lo faccio in una chiave di rispetto e di amore per questa città che non tollera più i ritardi della politica e che ha bisogno di cominciare a lavorare a un progetto lo faccio ovviamente lasciando la porta aperta a tutte quelle forze politiche e sociali che riterranno di potersi riconoscere nella costruzione e nella realizzazione di questo progetto La città è sostanzialmente al disastro ma lo è soprattutto in una dimensione di totale distacco ormai tra l'amministrazione e i cittadini stessi Una delle motivazioni della mia candidatura è proprio la sollecitazione che ricevo quotidianamente da tanta gente che in funzione della mia personale esperienza amministrativa mi sollecita a fare questo passo Devo dire che rispetto al bilancio di Palermo ove l'amministrazione attuale portasse a compimento il piano di riequilibrio approvato dallo Stato questo forse potrebbe essere per la nuova amministrazione uno strumento più flessibile di modulazione dei sacrifici richiesti ai cittadini dal momento che la dichiarazione di dissesto ingessa fortemente ogni scelta discrezionale da parte della politica quindi da parte dell'amministrazione comunale